Guido Iodice ci illustrerà quella che è l'alternativa che viene poi anche presentata attraverso i blog, da lui è cofondato e quindi ascoltiamo per l'appunto le sue parole. Buonasera a tutti, io sono Guido Iodice, sono insieme a Daniela Palma, che è una ricercatrice economica dell'Enea, l'ideatore e l'autore di Keynesblog, Keynesblog.com, che è nato l'anno scorso e ha come scopo quello di illustrare e fare una rassegna delle idee per uscire dalla crisi, per capire la crisi e per uscire dalla crisi. Noi nel nostro blog presentiamo sia articoli nostri originali, sia articoli ripresi da altri autori, per cui qualcuno è anche qui oggi. Non siamo molto soddisfatti di questo lavoro perché le visite sono tante, abbiamo anche una rubrica su Left che è l'allegato dell'unità, purtroppo, perché è bel giornale, Left è un bel giornale ma l'unità ogni tanto no. Abbiamo anche una collaborazione con Micromega e quella che io adesso andrò ad illustrare è un po' il risultato di una nostra riflessione su quella che potrebbe essere la soluzione migliore per la crisi dell'euro, tenendo conto, come dicevo prima in apertura, che le cose in economia non sono semplici, non basta dire come siamo entrati nell'euro possiamo uscire, nel mezzo ci sono tanti anni, c'è stata una crisi finanziaria, c'è stata l'austerità, c'è la crisi dei debiti sovrani che poi è quella di cui vi parlerò e quindi bisogna tener conto di tutti questi fattori e di quello soprattutto che nel resto del mondo succede, quindi di quello che è ad esempio la domanda estera e vi farò vedere dei grafici su come l'idea così romantica, che la svalutazione automaticamente riequilibri le partite correnti e la bilancia commerciale sia in realtà qualcosa che va approfondita molto più con attenzione. Questa relazione si intitola da Mario Draghi, presidente della BCE, a John Maynard Keynes. Una soluzione della crisi dell'euro ispirata al Bancor. Il Bancor era il nome di questa valuta virtuale mondiale che Keynes aveva presentato alla conferenza di Bretton Woods dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non fu approvata in quella sede, fu approvato un sistema meno intelligente ma che comunque funzionò, un sistema che era basato su, attenzione, cambi fissi, sia pure aggiustabili e che però, a differenza dell'euro, prevedeva il controllo dei movimenti di capitale e ha contribuito insieme alle politiche keynesiane a livello nazionale ad assicurare il periodo più lungo nell'intera storia del capitalismo, il periodo di stabilità più lungo nell'intera storia del capitalismo. Cioè noi, dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni 70, non abbiamo avuto nessuna crisi bancaria nel mondo occidentale. Abbiamo avuto qualche crisi bancaria, finanziaria, nei paesi in via, quelli che oggi si chiamano paesi in via di sviluppo, ma sostanzialmente se uno legge This Time is Different, un famoso libro di Rogoffer, Reinhard e Rogoff, che sono pessimi per altri motivi, ma i dati ne hanno raccolti bene, vede fondamentalmente che in quegli anni non è successo nulla, mentre prima e dopo è successo di tutto. A cosa è dovuta la crisi dell'euro? Fondamentalmente noi importiamo la crisi finanziaria dagli Stati Uniti, come è stato detto il professor Rinaldi, a un certo punto quando Lehman Brothers fallisce, viene lasciata fallire, tutte le altre banche vengono salvate, Lehman Brothers viene lasciata fallire, il panico si diffonde sui mercati e i mercati cominciano a domandarsi se ci sono dei paesi che hanno interesse ad uscire dall'euro. Quali sono i paesi che potrebbero avere interesse ad uscire dall'euro, cioè ad avere ridenominato il loro debito, sia debito pubblico che debito privato, sono quei paesi che sono in deficit, che hanno accumulato deficit durante gli ultimi 10-15 anni e nell'area euro questi sono l'Italia, Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo. Non ho messo Cipro, ma anche Cipro rientra in questi paesi. Come vedete il nostro, questo è il debito, si chiama Tecnicamente International Investment Position, assimiliamolo al debito che tutta un'economia, quindi sia pubblico che privato, ha con l'estero. Nella maggior parte dei casi, anzi sempre diciamo, questi debiti con l'estero sono debiti privati, non sono debiti pubblici. Tutta questa manfrina che ogni volta il debito pubblico è il problema, il debito pubblico è il problema. No, la crisi negli Stati Uniti è stata causata da debito privato, la crisi dell'euro è crisi fondamentalmente di debito privato. Poi si ripercuote sui debiti pubblici perché appunto i mercati scommettono sull'uscita di alcuni paesi che potrebbero avere convenienza in questo senso. Allora ci si domanda a questo punto, usciamo dall'euro, svalutiamo così, abbiamo tutti questi vantaggi, le nostre partite correnti, le esportazioni, importazioni per altri flussi finanziari migliorano perché noi siamo un paese competitivo eccetera eccetera eccetera, vediamo se funziona davvero così. Partiamo da un paese emergente che negli anni passati è stato un paese anche esportatore che è l'India. Ora come vedete l'India, il cui principale partner commerciale è la Cina, dal 2008 ad oggi rispetto alla Cina ha svalutato quasi del 50% rispetto all'euro del 34% rispetto al dollaro sempre del 34%. Non tutto insieme però diciamo che già dal 2008 vedete che c'è almeno intorno al 20% rispetto alla Cina, al 10-15% rispetto alle altre due valute. Noi diciamo, la Cina sicuramente avrà migliorato la sua, che è svalutato, i nostri prodotti indiani costano di meno e quindi verranno comprati da cinesi e da altri. No, non è successo, è successo esattamente il contrario, è peggiorata, si passa da meno 2.3% di deficit di partite correnti a meno 4,6% e le cose peggiorano, sono in via di peggioramento, scrive la Reserve Bank of India, cioè la banca centrale indiana nel 2011. Nonostante il fatto che la rupia indiana si sia deprezzata nei confronti del Renminbi, che non riesco a mai pronunciare, cioè lo Yuan cinese, rendendo notevolmente più competitivi i prodotti indiani, il deficit commerciale dell'India contro la Cina è esploso nel recente periodo. Una notizia di settembre che ho preso su un giornale indiano, c'è stato un incontro tra il governo indiano e quello cinese e la dichiarazione del Ministro del Commercio indiano è stata la seguente, il crescente disavanzo con la Cina non è sostenibile. Nel 2012-2013 il deficit commerciale dell'India con la Cina è stato di circa 39 miliardi di dollari contro un disavanzo di 37 miliardi di dollari nel 2011-2012, cioè i due anni precedenti. Come vedete qui dal grafico, come vedete le importazioni dalla Cina verso l'India aumentano, aumentano un poco anche le esportazioni dall'India verso la Cina, ma vedete che già nel 2012 tendono a calare. Passiamo all'Argentina, paese di cui si parla molto. Dice che l'Argentina non ha svalutato, se uno gira su internet e pensa che il problema dell'Argentina in questo momento sia il fatto che non ha svalutato, invece no, l'Argentina ha svalutato e anche in modo importante perché dal 2008 ad oggi rispetto al dollaro meno 47%, rispetto all'euro meno 47%, rispetto al real brasiliano, il Brasile è il maggior partner commerciale dell'Argentina, meno 38-39%. È vero che questa svalutazione non compensa la crescente inflazione in Argentina, ma è anche vero che questa inflazione c'era anche prima, non è che si è inventata tutta adesso. E comunque un qualche miglioramento si doveva vedere, se è visto o no, semmai si è visto un peggioramento. Cioè noi passiamo da più 2-3% di avanzo delle partite correnti nel 2008 a 0-1-0-27, in realtà oscillante, dipende da come ogni trimestre c'è una statistica, una va sopra, una va sotto, ma insomma fondamentalmente una parità. Uno dice ma com'è successo? Dovrebbe succedere questo, l'Argentina è un paese esportatore? Sì, in effetti quando svalutò dopo il periodo di parità con il dollaro negli anni 90, come vedete è impressionante, immediatamente si passa da un disavanzo del meno 1,4 a un avanzo dall'8,5. Quindi sono 10 punti di differenza. Poi si stabilizza, perché è chiaro, non si può avere tutti gli anni quel risultato là, però vedete com'è immediato e chiaro l'effetto della svalutazione. Mentre quello precedente, vedete, è disegno differente. Cioè quello di oggi è disegno differente rispetto a quello dell'uscita dalla parità col dollaro. Regno Unito. Regno Unito ha, si legge sui giornali, un paese diciamo che ha un depresso in questi anni la sua economia, con governi conservatori, però è un paese che ha svalutato, ha svalutato anche diciamo dal 2008 ad oggi rispetto al dollaro del 20%, rispetto all'euro del 20%. Come sono andate le cose nel Regno Unito? Anche qui diciamo le cose non sembrano migliorare molto. Si passa da un meno un per cento della fine 2008 al meno 3,7%. Ora è vero che uno legge sui giornali, le esportazioni sono al massimo storico, sì, ma perché c'è lì, come dire, le valute, anche il dollaro, se misurate in dollari, anche il dollaro si svaluta, è chiaro che tu hai sempre esportazioni maggiori rispetto a quelle che avevi dieci anni fa, per ovvi motivi, per questo motivo, però se guardiamo la differenza delle partite correnti che è quello che ci interessa dal punto di vista dell'accumulo del debito, del debito collesso, vediamo il Regno Unito oggi ha fatto piuttosto male, mentre quando il Regno Unito uscì dallo SME la cosa fu assolutamente chiara, oggi uscì insieme a noi dallo SME un giorno prima. Si passò da meno 2,1 a poi meno 1,9, meno 1, poi insomma si assestò, però andò quasi in pareggio dopo qualche anno. e qui arriviamo a qualcosa che è diventata abbastanza nota, chi si diletta, diciamo, anche di economia, è la cosiddetta condizione di Marshall Lerner. Cosa dice la condizione di Marshall Lerner? Dice che se tu svaluti e, diciamo, l'elasticità della risposta, ecco, chiamiamola così, delle esportazioni abbastanza ampia da compensare quello che paghi di più in importazioni, allora tu hai, diciamo, un miglioramento della bilancia commerciale e tendenzialmente anche delle partite correnti. Dice che questi paesi come erano messi? Erano messi bene. l'India, uno studio del 2005 dice che verificava la condizione di Marshall Lerner, l'Argentina anche, infatti nel 2001 ha funzionato, il Regno Unito anche, funzionò benissimo nel 1992. Quindi occorre chiedersi perché la svalutazione questa volta non ha migliorato le partite correnti? una possibile risposta risiede nel fatto che noi ci troviamo in presenza di una terrificante carenza di domanda estera, cioè i commerci mondiali sono quasi fermi. Nel 2008 l'intero montale di commerci mondiali sommava 16.154 miliardi di dollari, nel 2012 18.323. Ora facendo una proiezione pessimistica su come si sarebbe dovuto muovere il commercio mondiale se non ci fosse stata la crisi, cioè con una crescita intorno al 15% anno, noi vediamo che oggi dovremmo essere a 28 mila miliardi di dollari, non 18, cioè mancano l'appello 10 mila miliardi di dollari e la tendenza non è al miglioramento, perché se voi vedete i dati della colonna del 2011-2012 vedete che si passa da 18 miliardi 291 a 18 miliardi 323, cioè zero, crescita fondamentalmente zero. Cosa succede quando la domanda estera è stagnante, quando c'è una carenza di domanda estera? Che diventano prevalenti altri effetti, cioè quelli che prima ricordava il professor Rinaldi, la domanda interna guida le importazioni e la domanda estera guida le esportazioni, cioè tu anche se sei con il cambio fisso e con il cambio flessibile è come se avessi lo stesso un vincolo esterno, perché il vincolo è della domanda. Qui ho fatto un grafico per mostrare se l'offerta a un certo punto, vedete la linea blu, è alta, la diminuisco rispetto ai prezzi, quindi rendo i prodotti più convenienti, ma c'è carenza di domanda estera, di domanda in genere, la curva della domanda tende ad essere rigida, cioè tende a diventare quasi verticale e per cui il guadagno che ho è molto piccolo. Ora per farvi un esempio della vita quotidiana, dovete pensare ai saldi, quando ci sono i saldi e non c'è una crisi economica, i commercianti vendono di più di quanto vendevano nel precedente periodo e anche se vendono a meno però non importa, va tutto bene, perché vendono grandi quantità, si liberano i magazzini di marce vecchia eccetera, sono tutti contenti, noi ce ne andiamo a casa con un vestito firmato perché abbiamo pagato il 30% di meno. Cosa è successo in questi anni? Che i saldi sono andati male, perché? Perché la gente anche se la cosa costa il 30% di meno, non la compra lo stesso, perché non ha i soldi. Questo vuol dire carenza di domanda. Quindi, riassumendo, cosa ci dice l'esperienza recente? Che la flessibilità del cambio non assicura il miglioramento della partita correnti, persino per quei paesi che, nella loro esperienza storica, avevano invece beneficiato da svalutazioni. Pertanto l'esperienza passata non è una buona guida per il futuro, come ricordava Keynes spesso. E cosa sappiamo ancora? Che noi dal 2008 ci troviamo in una crisi finanziaria, in una crisi economica che non si è ancora risolta neanche negli Stati Uniti e, per la verità, anche in Inghilterra le cose vanno piuttosto male, perché se uno vede i prestiti in Inghilterra, nonostante tutti i quantitativi easing, tutta stampa di moneta, eccetera, i prestiti sono calati e sono rimasti lì. Quindi c'è un'estrema fragilità finanziaria globale. Nel 2008 il fallimento della sola Lehman Brothers innescò un contagio globale, recentemente il solo, ne manbrate una banca, grande ma una, recentemente il solo annuncio del tapering, cioè della riduzione dei cosiddetti quantitativi easing, cioè di questa stampa di moneta per comprare titoli da parte della Fed, ha causato la fuga di capitali nei paesi emergenti, tant'è che la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha dovuto cambiare opinione perché vedeva che le borse andavano male anche negli Stati Uniti, ma anche perché si vedeva che si stava creando un problema a livello addirittura globale. La rottura dell'area euro a seguito dell'uscita dei paesi periferici espone pertanto al rischio di una nuova crisi finanziaria e di un ulteriore e prolungato credit crunch. Queste sono conclusioni anche si trovano in molti studi, poi non bisogna prendere sempre con le pinze gli studi fatti dalle banche, fatti dagli istituti, perché poi sono sempre gli stessi che nel 2001, quelli che ti dicono no esci dall'euro, sono quelli che nel 1998 e dicono no entra nell'euro, insomma bisogna stare un po' attenti. Però diciamo è verosimile che in una situazione di questo genere una uscita unilaterale da parte di uno dei paesi dell'Italia, la Spagna, sarebbe seguita anche da altri paesi e creerebbe probabilmente un credit crunch, perlomeno in quei paesi, ma più probabilmente in tutta Europa e chissà quali potrebbero essere le conseguenze oltre. Quindi che fare? Io poi mi sono rifatto al documento dei cinque scenari del gruppo Economia 5 Stelle, ho trascurato solo l'ipotesi di una moneta complementare, che è una cosa interessante, ma forse ci toglierà troppo tempo. Prima opzione, lasciare tutto così? No, assolutamente, perché gli squilibri distruggeranno l'Unione monetaria e l'Unione Europea in modo probabilmente traumatico, perché guardate che è vero che adesso le partite correnti e la bilancia commerciale dei paesi periferici è un po' migliorata grazie all'austerità, noi importiamo meno, eccetera, eccetera. Ma appunto basta che ci sia un attimo di ripesa e esplode più di prima, perché intanto noi abbiamo distrutto le nostre industrie, abbiamo distrutto le nostre imprese e quindi chiaramente non siamo più competitivi di prima, non siamo diventati i più bravi di prima. La seconda soluzione, Eurobond, mutualizzazione dei debiti, eventualmente Stati Uniti d'Europa. Sono impraticabili politicamente per l'opposizione della Germania, è stato detto prima e verrà detto ancora, io non diciamo nulla a questio, chi si illude, Stati Uniti d'Europa, bello, sì, ma non c'è trippa per gatti, si dice Roma. Uscita unilaterale dall'Euro dell'Italia e altri pigs, cioè i pigs sarebbero Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, che la sigla vuol dire maiali, l'altro modo di dirci è gypsy, cioè zingari. I rischi sono elevati e i vantaggi come abbiamo visto sono incerti. Un'altra opzione è l'uscita della Germania, che è diversa dal punto di vista finanziario e di altri paesi core, è stata avanzata da Stiglitz e Soros, è una buona idea perché non creerebbe quel panico finanziario, l'Euro rimarrebbe per tutti gli altri e i paesi ricchi uscirebbero, quindi il panico finanziario sarebbe molto più ridotto, tuttavia bisogna convincere la Germania. Non possiamo andare con i carri armati in Germania e dicono uscite dall'Euro per favore. L'altra possibilità è Euro Sud e Euro Nord, cioè i paesi che più o meno è la stessa cosa, i paesi del Nord creano la loro moneta e i paesi del Sud creano la loro moneta, il problema è che se la fanno all'Euro poi noi, la Francia diventa la nuova Germania rispetto al Sud e poi quando magari convinciamo la Francia ad uscire e diventiamo noi rispetto, quelli che se la prendono in quel posto sono i greci che sono gli ultimi di greci e portoghese, io honestamente vi sento solidale col popolo greco e vorrei evitare cose del genere. La soluzione che a noi convince maggiormente, appunto che ho intitolato Mario Maynard, la soluzione di Keynes ispirata all'International Flaring Union che John Maynard Keynes, famoso economista inglese, avete sicuramente sentito parlare, propose a Bretton Woods. Come si dovrebbe fare? Bisognerebbe trasformare l'Euro da moneta unica a moneta comune, cioè ogni Stato, ogni paese ritornerebbe alle sue valute nazionali ma queste monete nazionali verrebbero agganciate con un rapporto di cambio fisso ma non irrevocabile come l'Euro, quindi con una possibilità di aggiustamento a questa moneta comune. Bisognerebbe creare una stanza di compensazione, una Claring Union si dice europea, cioè evolvere sostanzialmente l'attuale BCE, toglie in realtà alcuni poteri dall'attuale BCE e farne solo una camera di compensazione, questa moneta comune non sarebbe una moneta fisica, sarebbe semplicemente un'unità di conto. Se io devo esportare in Germania non posso usare le lire ma devo usare questa unità di conto in modo che nella camera di compensazione ogni paese ha un suo conto corrente nella camera di compensazione e in questi conti correnti si accumulano i surplus o i deficit delle partite correnti, cioè della bilancia commerciale quando commerciamo. Cosa succede quando c'è una tendenza di un paese a accumulare di surplus come ad esempio è la Germania. I paesi vengono disincentivati automaticamente a mantenere gli avanzi attraverso la previsione di quote e tassi di interesse crescenti sugli avanzi in questa stanza di compensazione, come avere un conto corrente dove tu hai più 100 euro ma io banca, ti tolgo qualcosa perché i tuoi più 100 euro in realtà sono in meno 100 di qualcun altro, quindi tu devi essere indotto a compensare in modo simmetrico gli avanzi con i disavanzi. Per correggere gli avanzi possono adottare misure differenti, espansione interna, cioè aumento della spesa pubblica ad esempio, aumento dei salari oltre la produttività, questa è una misura abbastanza efficace dal punto di vista della compensazione delle differenze di competitività, oppure spendere il surplus che si è accumulato in acquisti di merci da paesi in deficit, che è esattamente ciò che la Cina adesso si è impegnata a fare con l'India, tanto per dire. Oppure in ultima analisi la rivalutazione della moneta nazionale rispetto all'ECU, quindi l'euro marco salirebbe di un 5, di un 10%, ma questo non quando ormai le cose sono diventate drammatiche, ma in continuazione serve un aggiustamento continuo. Cosa farebbero i paesi in deficit? Vengono disincentivati a mantenere i deficit attraverso sempre la previsione di quote e tassi di interesse sui debiti nella stanza di compensazione, ma ridotti rispetto a quelli dei paesi creditori. Per correggere i deficit possono adottare misure non deflazionistiche, cioè non l'austerità, per aumentare la loro competitività. Ad esempio sostituzione delle importazioni, cioè importiamo pannelli solari, la nuova Unione Europea ci deve dare il permesso di aiutare le nostre imprese che producono pannelli solari, incentivi fiscali per l'innovazione, per il prodotto e il processo, svalutazione della moneta nazionale rispetto all'ECU, se queste misure non fossero sufficienti. I vantaggi di questa soluzione non richiede l'eurobond, non richiede la mutualizzazione dei debiti, quindi super eventuali problemi che la Germania e i paesi del centro oggi vedono fondamentali. Non richiede trasferimenti fiscali, il trasferimento è privato, io compro di più, compro di meno della seconda delle partite correnti. Gli spazi di sovranità politica, di sovranità monetaria, politica fiscale, molto ampi per i singoli stati, almeno pari a quelli che esistevano nel sistema di Bretton Woods, cioè prima degli anni 70, dico almeno pari perché in realtà quel sistema non aveva questo gioco di correzione, per cui i paesi potevano andare in passivo, però quel sistema funzionò abbastanza fin quando furono di fatto liberalizzati i movimenti del capitale e poi il dollaro si trova in una tempesta finanziata. Altri vantaggi, nessun rischio di credit crunch, fuga di capitali, è una trasformazione fondamentalmente, non dico indolore, però certo qualcuno potrebbe giocare inizialmente su una speculazione per il fatto che Stati stai ridenominando la moneta, quindi io voglio il marco che così si rivaluta, però dopo un certo periodo queste cose si assesterebbero normalmente perché non c'è un pericolo di peggioramenti futuri del tasso di cambio, non c'è un pericolo di confiducia nel paese che adotta questo sistema, come potrebbe essere invece se si esce dall'euro unilateralmente. Riduzione dell'incertezza sui valori e l'affidabilità delle monete nazionali, conserva il mercato unico, anche se ne minimizza gli svantaggi e il nuovo euro sarebbe una moneta di riserva internazionale, come sottolineato da sapere potrebbe diventare un riferimento per i paesi in via di sviluppo, i BRICS, Brasile, India, Sudafrica e Cina, e un modello di riforma per il sistema monetario internazionale. Se la Germania dice no, non ci sono grandi problemi, nel senso che la soluzione può essere attuata anche senza i paesi core, in questo caso si tratterebbe di una riproposizione corretta del cosiddetto euro sud. L'area del nuovo euro sud completerebbe la Francia, l'Italia, la Spagna, cioè la seconda, terza e quarta economia dell'eurozona, più gli stati minori, darebbe agli stati periferici comunque una credibile arma di ricatto nei confronti della Germania, perché è chiaro che se tu vai dalla Germania e dici no, devi fare, io voglio questo, questo e quest'altro, se no esco dall'euro, quello dice non ci crede, perché sa che i rischi che correremmo sono elevati, mentre se tu vai con una proposta di questo genere, tanto più insieme a Francia, Spagna e altri paesi, la minaccia diventa credibile. Ed è una soluzione che può essere adottata anche all'ultimo minuto nel caso di esplosione e drammatizzazione della crisi, questi paesi proponenti potrebbero adottare immediatamente questa soluzione. Concludendo, quello che io vorrei proporre al Movimento 5 Stelle è questo, io, noi, i Keynesblog, il Movimento 5 Stelle potrebbe inserire la soluzione Keynes come punto centrale del suo programma per le elezioni europee, perché la forza di questa proposta consiste nel dare al fronte critico sull'euro una via praticabile, non traumatica, non distruttiva alla soluzione della crisi dell'euro. Non può essere liquidata questa proposta come euroscettica, populista, avventurista o economicamente fondata, perché anzi è economicamente fondata sull'analisi di quello che è successo in questi anni. Non è una proposta di fantasia, perché l'Europa ha già in parte sperimentato qualcosa del genere negli anni 50 con l'Unione Europea dei Paganenti, è stata già avanzata o giudicata positivamente da molti economisti, ultimamente Freddy Clordon, Steve Keen, anche nella link tedesca ci sono degli economisti e dei deputati che l'hanno proposta, Riccardo Bellofiore l'aveva proposta in anni passati e ne potrei citare molti altri. Lo stesso Sapir è favorevole a questa proposta e quindi è possibile costruire un consenso trasversale non solo tra forze politiche ma persino io credo anche tra pezzi dialoganti di critici dell'euro e spaventati da un'eventuale uscita dall'euro. Vi ringrazio.